Nome? Enrico. Ettore. Età? 24. 22. Ruolo? Sono un ragazzo eclettico, gioco numero 10, 12, 15. Primo centro. Da dove vieni? Sono nato a Modena, è cresciuto a Modena. Da Lendinara, un paesino in provincia di Rovigo. Hai un lavoro o sei studente? Sono uno studente. Sono anche uno studente. Win for Life sostiene il CUS anche con delle borse di studio. Come le sfruttate? Beh, è importantissima perché mi permette di vivere qua a Verona dove studio, quindi senza di quella farai fatica. Beh, il CUS mi dà la possibilità di alloggiare insieme a altri compagni di squadra qui in centro a Verona. E' sicuramente una grande comodità per me. Chi è il più bravo tra voi due? Beh, io. Bravo in generale, io ovvio. Il giocatore più forte del CUS Verona? Marco Nittling. Credo Enrico Chico Tomei. Facci un urlo. Ah, oppure uuuuh. Facci la faccia più brutta che sai fare. Chi è il più simpatico tra voi due? Beh, io. Beh, io. Chi è il cocco dell'allenatore? Sono io. Io. Un punto di forza dell'altro? Il naso. La barba. Una debolezza dell'altro? Si lamenta troppo, sempre si lamenta. L'addominale. Dai un consiglio all'altro per migliorare in campo? Quando devi passare il pallone non devi pensare a metterlo nelle mani, ma solo a passare. Tagliati la barba e ascolta di più quello che ti dice l'allenatore. Ora dagli un consiglio per migliorare con le ragazze? Mettiti la maschera. Fa fare tutto al meglio, non ha bisogno di me. Di qualcosa all'altro che non gli hai mai detto? Sei bellissimo, Ettore. Ti stimo. Saluta. Ciao, grazie. Ciao ragazzi, grazie.